Residenti esasperati nelle case Ater di Via della Portella e Via Rigopiano, dove su 79 famiglie solo 27 sono regolari assegnatari di appartamenti. In quella zona dove qualche giorno fa c'è stato un accoltellamento per una lite condominiale regna l'illegalità, occupazioni abusive, spaccio di droga, ricettazione di oggetti rubati. I pochi residenti onesti raccontano senza volersi far riprendere in volto per paura di ritorsioni, sono costretti a vivere costantemente sotto la minaccia verbale quando va bene e di armi nella maggior parte delle volte, soprattutto pistole e coltelli. Questa mattina attorno alle 11 c'è stato un altro intervento delle forze dell'ordine per un inquilino abusivo che ha cercato di rientrare in possesso dell'appartamento che era stato murato, passando dalla finestra del secondo piano, come si vede da questa fotografia. Una situazione che le stesse forze dell'ordine a microfoni spenti definiscono di quasi normalità. Questa mattina residenti e rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno tenuto una conferenza stampa per chiedere maggiore presenza dello Stato in quella zona di Pescara che è proprio a due passi dall'ospedale Santo Spirito. Lo Stato deve tornare prepotentemente a farsi Stato, quindi prefetto, questore, sindaco di Pescara, presidente della regione devono istituire immediatamente unità fissa di polizia, H24. In quella piazza ci vuole unità fissa che stazioni, perché non è possibile lasciare più senza controllo quella piazza. E poi contestualmente gli sfratti vanno fatti, ma non murando e lasciando correre, ma vanno fatti cacciando l'abusivo e riassegnando contestualmente al nuovo assegnatario. Solo così possiamo risolvere i problemi. Ci servono soldi? Sì. Allora Regione Abruzzo ci mette immediatamente i soldi.